Peppe Genchi, primo allenamento, incontro con i nuovi tifosi, le prime impressioni? Ancora presto comunque per dare un giudizio comunque completo, però diciamo che l'attaccamento alla maglia di questa tifoseria l'avevo già notato nelle passate stagioni e anche in altre categorie, quindi è normale che Lega Pro qui la gente è molto entusiasta e quindi oggi c'era un gran numero di gente come primo allenamento, speriamo di regalare delle emozioni importanti a questa tifoseria che la merita. Tu hai incontrato i nuovi compagni di cordata, di squadra, conosci qualcuno già? Conosco bene o male giocando sempre contro il capitano e qualcun altro se viola, comunque sono giocatori che ho incontrato e che erano bene o male i giocatori di riferimento quando giocavamo contro delle altre squadre, quindi abbiamo un minimo di conoscenza ma credo che comunque il ritiro servirà a questo per fare gruppo. Ecco, nella squadra di Monopoli giocheranno due calciatori provenienti dalla Serie A della Grecia, le prime impressioni su questi due calciatori, anche se avete giocato pochissimo, non so, un'oretta. Sì, infatti è abbastanza poco, però credo che comunque se giocano in Serie A credo che comunque le qualità ci siano, è normale che come primo giorno non sai come possono stare fisicamente, come posso stare io, come possono stare tutti, però credo che comunque le qualità di qualcuno di loro le ho viste, anche quel ragazzino che ha fatto anche gol oggi, ne ha fatti due, mi sa. Credo che comunque si vedono, però credo che è ancora presto, anzi proprio al primo giorno, quindi nel ritiro capiremo bene la squadra che siamo.